Epic Games ha preparato un regalo difficile da rifiutare. Rocket League è diventato ufficialmente un titolo free to play e per invogliare i nuovi giocatori al download, Epic Games Store offre un buono di 10€ a tutti gli utenti che riscatteranno il titolo sul loro launcher. Per ottenere il regalo non è necessario installare Rocket League, ma semplicemente aggiungerlo alla propria libreria in via totalmente gratuita. Ovviamente, essendo legata allo store di Epic, l'offerta è disponibile solo su PC. Il buono non può essere applicato a giochi con un valore inferiore a 14,99€, è ottenibile fino alle ore 17 del 23 ottobre e sarà valido fino al primo di novembre. Si tratta di una strategia particolare con cui Epic Games punta a riportare in pista Rocket League. Per chi non conoscesse il titolo, parliamo di un particolare sportivo in cui calcio e bolidi da corsa si uniscono per dare vita a tesissime partite che coinvolgono un massimo di sei partecipanti, chiamati a contendersi la vittoria a suon di gol. Il lavoro di Psyonix, pubblicato nel luglio del 2015, è diventato un fenomeno di portata mondiale grazie soprattutto al suo inserimento al Day One nell'Instant Game Collection di PlayStation Plus. Da non dimenticare poi la sua natura strettamente collegata al mondo degli esports. Rocket League è infatti un gioco dove l'abilità è tutto e solo i migliori riescono a padroneggiare il sistema di guida per segnare spettacolari gol volanti. A distanza di 5 anni, Epic Games punta quindi a riportare il Rocket League ai fasti di un tempo e per farlo ha deciso di darvi un incentivo da non sottovalutare. Il nostro consiglio è dunque quello di provare il titolo di Psyonix e tra un gol e l'altro pensare a come spendere il vostro bonus di 10€. Prima di salutarci, diteci nell'area dedicata ai commenti cosa ne pensate di Rocket League e della trovata di Epic.